qui ho cominciato a mettere mano a questa sponda qua devastata devastata qua devo pensare a qualcosa per risistemarla mi piacciono le cose in ordine questo qua mi sa che dovrò ripagliare tutto a preso 5 quadrati questo qua mi piacciono le cose in ordine la città la città la città la città la città la città l'acqua la città la città che cosa ricordi l'acqua la città questa finestra l'acqua 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 il Luca, vengo lì un attimo che raddrezziamo questa. Luca, vengo lì, vengo lì, vengo lì. Adesso ce l'ho fatta a metterla dentro bene, mi sembra la sua, qua è distrutta, ma questo qua va inserito lì. L'ho inserito lì e dopo qua vi faccio il perno, prenderò il perno questo qua, ne faccio uno uguale. L'ho inserito lì, vengo lì, vengo lì, vengo lì, vengo lì. Grazie a tutti. 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 Vi ringrazio per aver visto anche questo video. Un saluto a tutti.